Lupacchiotto, ma che mi conviene, eh? Hai mandato all'ospedale tre dei miei anni. Ci sarebbe un modo per fare soldi, per farne tanti e in fretta. Fai sempre tutto di testa tua, bravo. I tuoi problemi non me ne parli mai. Voglio provare un'ultima stella. Combattimenti grandestini. Salta in macchina. Quelli non ti servono. Nessuna regola, nessuna pietà. Qui è tutto reale. Chi c'è dietro a tutto questo? Questo mondo ha le sue regole. La prima, e non fare domande. E bravo il nostro gruppo. Che vuoi? Ti sta pagando, no? Stai attento. La cosa? Ma perché è perso? Ho bisogno della tua magia. 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 Grazie a tutti.